Allora la quarta sfida, Leo Gasma contro Samuel Pietrasanta Eccoli qua, ciao ragazzi, come va? Un passo lento, prendiamocela calma, godiamocela Facciamo finta di essere sereni, finta? Facciamo finta, assolutamente finta Come ti senti? Come lui Leo? Come lui Come lui Clip di presentazione Leo e Samuel Sono Leo Gasman, ho 20 anni e vengo da Roma Mi chiamo Samuel Pietrasanta, ho 27 anni e vengo da Catania Il mio genere musicale è un cantautorato pop, ma io non sono uno che si definisce, sono un ragazzo quindi sperimento anche con sonorità inglesi a volte La mia musica fa parte del mondo del pop, amo i cantautori e quindi cerco sempre di esprimere i miei messaggi però all'interno di un sound che è sicuramente pop, che tende al roccheggiante Sono convinto che questa sia la mia strada, io senza la musica non ci saprei stare perché io ascolto musica 24 ore su 24 all'università quando studio nei momenti tristi, felici Io sono un artista di strada, questa dimensione molto piacevole che mi permette di tenere viva la mia passione ma anche rispettare le mie responsabilità da padre Io non la vedo come una sfida, la vedo come un dialogo tra due mondi diversi e vedremo appunto chi passerà Comunque vada è già un grandissimo successo personale al di là di quello che poi sarà